Erano tre donne, una nonna, una madre e una zia. Da tempo le guardavo muoversi attorno a quella branda d'ospedale per mettere insieme lentamente i due piatti di plastica, i tre cucchiai, la pentolina annerita, il secchio verde e darli alla nonna. E continuai a guardarle quando la madre e la zia raccolsero la coperta, due o tre magliettine, gli stracci in un fagotto che legarono perché la zia se lo mettesse sopra la testa. Ebbe un cedimento quando vedi che la zia si chinava sulla branda, sollevava il piccolo, lo teneva a mezz'aria, lo guardava con una faccia strana come stupita, come incredula, lo appoggiava sulla schiena della madre come in Africa si appoggiano i piccoli sulle schiene delle loro madri, con le gambe e le braccia divaricate, il petto del bambino contro la schiena della madre, la faccia girata di lato. E la madre lo legò con un pezzo di stoffa, come in Africa si legano i piccoli al corpo delle loro madri. Il piccolo era al suo posto, pronto per andare a casa, come sempre, morto. Non faceva più caldo del solito. Credo che questo libro sia cominciato qui, in un paese molto vicino a qui, nel profondo del Niger qualche anno fa, seduto con Aisha su una stuoia di fronte alla porta della sua capanna. Sudore di mezzogiorno, terra secca, ombra di un albero rado, urla di bambini che corrono tutto attorno. Quando lei mi raccontava della palla fatta con la farina di miglio che mangiava tutti i giorni della sua vita, e io le domandai se mangiava davvero quella palla di miglio tutti i giorni della sua vita. E ci fu uno shock culturale. Beh, tutti i giorni che posso. Mi disse così e abbassò gli occhi con vergogna. E io mi sentì un verme. E continuammo a parlare del suo cibo e della mancanza di quel suo cibo. E io, povero sprovveduto, mi confrontavo per la prima volta con l'espressione più estrema della fame. E dopo un paio di ore pieno di sorprese, le domandai, per la prima volta, la domanda che in seguito avrei fatto così tanto. Se avesse potuto chiedere quello che voleva, qualunque cosa, a un mago capace di dargliela, che cosa gli avrebbe chiesto? Aisha esitò per un po', come chi si confronta con qualcosa di inconcepibile. Asha aveva 30 o 35 anni. Il naso dalla pace. Gli occhi di tristezza. La stoffa lilla a coprire tutto il resto. Voglio una vacca che mi dia molto latte. Così, se vendo un po' di latte, posso comprare quello che serve per fare le frittelle da vendere al mercato. Così, se vendo un po' di latte, posso comprare quello che serve per fare le frittelle da vendere al mercato. E così più o meno me la caverei. Intendevo che il mago può darti qualunque cosa, tutto quello che gli chiedi. Qualunque cosa davvero? Sì, tutto quello che gli chiedi. Due vacche, mi disse in un sussurro e mi spiegò, con due sì, che non avrai fame, mai più. Era così poco, pensai come prima cosa. Ed era tanto. Conosciamo la fame. Siamo abituati alla fame. Abbiamo fame due o tre volte al giorno. Nelle nostre vite non esiste niente che sia più frequente, più costante, più presente della fame e al tempo stesso. Per la maggior parte di noi, niente che sia più lontano dalla fame vera. Conosciamo la fame. Siamo abituati alla fame. Abbiamo fame due o tre volte al giorno. Ma tra la fame ripetuta, quotidiana, saziata ripetutamente e quotidianamente che viviamo noi, e la fame disperante di chi non può soddisfarla, c'è tutto un mondo. La fame è, da sempre, motore di cambiamenti sociali, progressi tecnici, rivoluzioni contro rivoluzioni. Nulla ha influito di più sulla storia dell'umanità. Nessuna malattia, nessuna guerra ha ucciso più gente. Ancora oggi, nessuna piaga è tanto letale e al tempo stesso tanto evitabile quanto la fame. Io non sapevo. La fame è, nelle mie immagini più lontane nel tempo, un bambino con la pancia gonfia e le gambe sottili in un posto sconosciuto che allora si chiamava Biafra. Allora, alla fine degli anni Sessanta, udì per la prima volta la parola che esprime la fame nella sua versione più brutale. Carestia. Il Biafra fu un paese effimero, dichiarò la propria indipendenza dalla Nigeria il giorno in cui io compivo dieci anni. Prima che ne avessi tredici era già scomparso. In quella guerra un milione di persone morirono di fame. La fame, sugli schermi di quei televisori in bianco e nero erano i bambini circondati di mosche con un rictus d'agonia. Nei decenni successivi l'immagine sarebbe diventata più o meno consueta, ripetuta, insistente. Per questo ho sempre pensato che avrai cominciato questo libro con il racconto crudo, scarno, terribile di una carestia. Sarei arrivato con una squadra d'emergenza in un luogo desolato, probabilmente africano, dove migliaia di persone stavano morendo di fame. Lo avrai raccontato con particolari brutali e a quel punto, dopo aver rappresentato il peggiore degli orrori, avrai detto che non bisogna ingannarsi o lasciarsi ingannare. Situazioni del genere rappresentano soltanto la punta dell'iceberg e la realtà reale è molto diversa. Avevo pensato, progettato alla perfezione, ma negli anni che ho passato a lavorare su questo libro non ci sono state carestie fuori controllo, solo le solite. La penuria estrema del Sahel, i rifugiati somali o sudanesi, le inondazioni del Bengala, tutto questo da un lato è una grande notizia, ma dall'altro non meno importante. È un problema. Le catombi erano le uniche occasioni che la fame ha di presentarsi, immagini sugli schermi delle case, a chi non la soffre. La fame, come catastrofe puntuale e spietata, compare soltanto in occasione di una guerra o di un disastro naturale. Tutto il resto, invece, è molto più difficile da mostrare. I miliardi di persone che non mangiano quanto dovrebbero e soffrono per questo e muoiono a poco a poco per questo. L'iceberg, ciò che questo libro cerca di raccontare e di pensare. Eppure non dico nulla che non sappiamo già. Tutti sappiamo che c'è la fame nel mondo. Tutti sappiamo che ci sono 800-900 milioni di persone, le cifre uscillano, che ogni giorno patiscono la fame. Tutti abbiamo letto o udito queste stime e non sappiamo o non vogliamo agire di conseguenza. Se c'è stato un momento in cui la testimonianza, il racconto crudo serviva, si direbbe che adesso non serva più. Allora, che cosa rimane? Il silenzio. Ascia, che mi diceva quanto sarebbe stata diversa la sua vita con due vacche. Se proprio devo spiegarlo, non so se devo spiegarlo. Niente, mi ha colpito di più che capire come la povertà più crudele, la più estrema, sia quella che ti turba anche la possibilità di pensarti diverso. Quella che ti lascia senza prospettive, senza neanche desideri, condannato per sempre alla stessa situazione inevitabile. Dico, voglio dire, che non so come dirlo. Voi, gentili lettori, così pieni di buone intenzioni, un po' smemorati. Riuscite a immaginare che cosa significhi non sapere se domani potrete mangiare. E ancora, riuscite a immaginare come possa essere una vita fatta di giorni che si susseguono ad altri giorni senza sapere se domani potrete mangiare. Una vita che consiste soprattutto in questa incertezza, nell'angoscia di questa incertezza, nello sforzo di immaginare come alleviarla, non potendo pensare a nient'altro, perché ogni pensiero si tinge di questa mancanza. Una vita così limitata, così breve, a volte così dolorosa, così combattuta. Tante forme di silenzio. Questo libro ha molti problemi. Come raccontare l'altro, ciò che è più lontano? È molto probabile che voi, lettori, lettrici, conosciate qualcuno che è morto di cancro, che ha subito un'aggressione, che ha perduto un amore, un lavoro, l'orgoglio. È molto probabile che conosciate qualcuno che vive con la fame, che vive il rischio di morire di fame. È molto improbabile che conosciate qualcuno che vive con la fame, che vive il rischio di morire di fame. Molti milioni di persone che sono qualcosa di lontano, qualcosa che non sappiamo, né vogliamo immaginare. Come raccontare una simile miseria senza cadere nel pietismo, nell'uso lacrimevole del dolore altrui? O prima ancora, perché raccontare una simile miseria? Molto spesso raccontare la miseria è un modo di usarla. La disgrazia altrui interessa a molti disgraziati che vogliono convincerci di non stare così male, o che vogliono, semplicemente, provare un certo brivido. La disgrazia altrui, la miseria, serve a vendere, a nascondere, a confondere le acque. A presupporre, per esempio, che il destino individuale sia un problema individuale. E soprattutto, come combattere contro la degradazione delle parole, le parole, milioni di persone patiscono la fame, dovrebbero significare qualcosa, provocare qualcosa, produrre determinate reazioni. Ma di solito, le parole non fanno più cose del genere. Qualcosa accadrebbe, forse, se potessimo restituire alle parole il loro significato. Questo libro è un fallimento, prima di tutto perché ogni libro lo è, ma soprattutto perché un'esplorazione del maggior fallimento vissuto dal genere umano non poteva che fallire. Al fallimento, naturalmente, hanno contribuito le mie mancanze, i miei dubbi, la mia incapacità. Ma, anche così, questo è un fallimento del quale non mi vergogno. Avrei dovuto conoscere più storie, meditare su più questioni, capire qualcosa di più, ma a volte fallire vale la pena. E fallire di nuovo, e fallire meglio. L'eliminazione, ogni anno, di decine di milioni di uomini, donne e bambini, ad opera della fame, è lo scandalo del nostro secolo. Ogni cinque secondi un bambino sotto i dieci anni muore di fame, in un pianeta che pura straripa di ricchezze. Allo stato attuale, in effetti, l'agricoltura mondiale potrebbe nutrire senza problemi 12 milioni di esseri umani, quasi il doppio della popolazione attuale. Dunque, non si tratta di una fatalità. Un bambino che muore di fame è un bambino assassinato. Disse in Destruction Massive, l'ex relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti dell'alimentazione, Jane Ziegler. Migliaia e migliaia di fallimenti. Ogni giorno muoiono nel mondo, in questo mondo, 25 mila persone per ragioni che hanno a che vedere con la fame. Se voi, lettori, lettrici, vi prendete il disturbo di leggere questo libro, se vi entusiasmate e lo leggete in, diciamo, otto ore, in quell'asso di tempo, saranno morte di fame circa 8 mila persone. 8 mila persone sono molte. Se non vi prendete il disturbo di farlo, saranno morte lo stesso. Ma voi avrete la fortuna di non averlo saputo. Quindi, probabilmente, preferirete non leggere questo libro. Forse io farei la stessa cosa. È meglio, in genere, non sapere chi sono, né come né perché. Ma avete letto questo breve paragrafo in mezzo minuto. Sappiate che, in questo lasso di tempo, nel mondo, sono morte di fame soltanto da 8 a 10 persone. E tirate un sospiro di sollievo. E se magari, allora, decidete di non leggerlo, forse continuerà a girarvi in testa la domanda. Tra le tante domande che mi faccio, che questo libro si fa, se ce n'è una che spicca, che risuona, che mi assilla senza sosta. Come cazzo riusciamo a vivere, sapendo che succedono queste cose? Nigel, strutture della fame. Avevo parlato con lei poco prima, 5-6 ore prima, quando il suo bambino era vivo, addormentato, magrissimo, che pienucolava anche da addormentato. Un dottore mi ha detto che devo avere pazienza, può darsi che guarirà, mi disse. Ed esitai prima di farle una domanda evidente. In genere non vi è ragione di fare questo tipo di domande. Può anche darsi di no. Non so cosa può accadere. Cadì a una ventina d'anni. Non so, una ventina, disse. Eiseidou era suo figlio. Cadì, mi disse, si era sposata tardi, più o meno a 16 anni. Perché tardi? Beh, tardi. Le altre ragazze del paese si sposano a 12, a 10, a 13 anni. Mi disse Cadì e che la fecero sposare con un vicino che non aveva quasi nulla, perché pare che nessun altro volesse sposarsi con lei. Non so perché. Siccome sono magrolina, forse pensavano che non andassi bene per fare figli. E che Yusuf, suo marito, è un bravo ragazzo, ma fatica molto a procurarsi il cibo, perché non hanno terra e quindi lui deve lavorare dove trova. E hanno anche faticato perché lei rimanesse incinta. Ma alla fine è successo. E non sa che felicità abbiamo provato, mi disse. E che paura, perché come avrebbero fatto a tirarlo su. Ma se tutti tirano su i figli, anche loro ci sarebbero riusciti. Eppure gioia, perché era un maschio e lo avevano chiamato Seidou. E cresceva bene, mi disse Cadì. Quando era piccolino, cresceva molto bene. Erano così contenti. Ma poi, qualche giorno fa, gli è venuta questa diarrea. Non sa quanto è tremenda la diarrea. Non finiva, non finiva più. Allora l'ho portato dal Marabù a farlo vedere. Il Niger, come tutti i paesi, è il risultato di una somma di casi. I casi africani sono più recenti, più evidenti. L'errore di un cartografo, l'incontro di un cancelliere francese con uno inglese a, diciamo, Versailles nel 1887, per spartirsi la regione. L'ambizione o l'apatia di un esploratore con problemi di prostata. Ma fu un caso anche che quello stupido di Napoleone III volesse ricavare soldi dalla Baviera e la costringesse a unirsi alla Prussia e a formare la Germania. O che i governanti di Buenos Aires fossero ormai così netti da non riuscire a mantenere il limite orientale del vicereame all'interno del loro territorio. E così via. Governare significa approfittare dell'ignoranza diffusa per sfruttare al massimo la propria. Ad ogni modo, un caso sfortunato. Per via di questo caso, adesso il Niger è costituito per tre quarti di terra sterile. Ha un sottosuolo quasi sterile. Qualche chilometro più a sud il petrolio stralipa. Ma lì è già Nigeria. Così chi abita su questo lato non ha il diritto di estrarlo e patisce la fame. Di solito c'è qualcosa di crudele nei casi che chiamiamo paesi e che, ci dicono, sono la cosa più nostra, quella che dovremmo amare con tutta l'anima difendendola a costo della vita. Il Niger è, forse, il paese più rappresentativo del Sahel. E il Sahel è una striscia lunga più di 5.000 chilometri e larga circa 1.000 che attraversa l'Africa dall'Atlantico al Mar Rosso, proprio sotto il Sahara. Di fatto, Sahel significa riva del Sahara. È una zona arida, semidesertica, piatta, nella quale prosperano alcuni dei regni più potenti d'Africa, l'impero Mandingo o impero del Mali. Per esempio, nel secolo XVI, quando i signori di Timbuktu costruirono una delle città più grandi del tempo, scambiando il sale che arrivava dal deserto del nord con gli schiavi che arrivavano dalle selve del sud. Ancora adesso costituisce parte del Senegal, della Mauritania, dell'Algeria, del Burkina Faso, del Mali, del Chad, del Sudan, dell'Etiopia, della Somalia e dell'Eritrea. Conta oltre 5 milioni di chilometri quadrati, 50 milioni di persone, bestie magre, coltivazioni stentate, poche industrie, poche infrastrutture, sempre meno minerali da estrarre. Il Sahel è, anche, la regione che ha dato un senso diverso alla parola emergenza, che di solito si usava per eventi straordinari, inaspettati. Nel Sahel, ogni giugno, milioni di persone entrano in stato di emergenza, rimangono senza cibo, minacciati dalla carestia. E l'anno dopo accade di nuovo la stessa cosa. E l'anno dopo e quello dopo ancora. Ma ogni volta è diverso. Il Sahel è, tra l'altro, vittima di un luogo comune. Quello secondo il quale i suoi abitanti non mangiano perché non è possibile che mangino. Quello secondo il quale la fame in quei posti è un problema strutturale, irreversibile, quasi ontologico. Patiscono la fame perché non può essere altrimenti, povere anime disgraziate. Nel Sahel la fame è sempre presente, ma diventa brutale quando comincia il periodo che i francesi chiamano Sudur, gli anglosassoni hunger gap e gli ispanici in nessun modo. Perché dovrebbero? Sono i mesi nei quali il grano del raccolto precedente è terminato e quello successivo lotta per spuntare dal terreno. Allora il governo chiede e non chiede aiuti. Le agenzie internazionali diffondono l'allarme sul pericolo e destinano e non destinano le loro risorse. E quei milioni di persone mangiano e non mangiano. E qui, all'ospedale distrettuale di launa, a 500 chilometri da Niamay, Medici senza frontiere, MSF, monta un nuovo tendone ogni due o tre giorni perché arrivano sempre più bambini denutriti. Il centro di cura per le persone denutrite, Creni, centro di riabilitazione ed educazione nutritionnelle intensive, previsto per circa 100 bambini, ne ha già ricoverati più di 300. E il flusso non si arresta, neanche di strano. Più o meno la stessa cosa tutti gli anni. L'anno scorso, sui circa 90.000 bambini sotto i 5 anni che abitano nel distretto di Madagua, 21.000 sono stati curati per malnutrizione in questo centro e nei suoi satelliti. Quasi un quarto dei bambini che abitano la zona. Di qui, un po' di tempo fa, è uscita a piedi e cadì la madre con il suo bambino sulla schiena. Qui, nell'ultima settimana, sono morti 59 bambini per la fame e le sue malattie. Allora, quando si era ammalato, il marabù le aveva dato certi unguenti per frizzonargli la schiena, mi disse cadì, e foglie per fare degli infusi. Il marabù non è soltanto il saggio musulmano di ogni paese, è anche spesso il guaritore, che adesso il linguaggio politicamente corretto chiama medico tradizionale, una figura fondamentale. Cadì aveva fatto tutto, la diarrea non si fermava. Una vicina le parlò dell'ospedale e le chiese perché non lo portava lì. Cadì venne qui più di sei giorni fa, ha detto. Più di sei giorni fa e furono accolti lei e il suo bambino, ma la cosa che non capisce è perché le abbiano detto che si era ammalato perché non aveva mangiato abbastanza. Io gli ho sempre dato da mangiare, gli ho dato la tetta, poi ho cominciato a dargli il suo cibo, gli abbiamo sempre dato il suo cibo. A volte mio marito e io non mangiavamo, mangiavamo pochissimo, ma a lui abbiamo sempre dato il suo cibo. Non piangeva mai, aveva sempre il suo cibo. Mi disse Cadì, diffidente, addolorata. Mio figlio mangia, deve essersi ammalato per qualcos'altro. Sarà stato qualche mago, una strega, forse ha inghiottito troppa polvere l'altro giorno quando in paese è passato quel grande gregge. O è stata l'invidia di Amina per la morte di quel suo figlio nato nello stesso periodo. Non so cosa possa essere, ma il cibo non può essere, lui mangia. E che cosa gli date da mangiare? Come sarebbe a dire cosa? Lavora, disse con naturalezza. E io non le dissi che lavoura, quella specie di palla di polenta solida, fatta con farina di miglio e acqua, che i contadini del Niser mangiano quasi tutti i giorni della loro vita, non basta per nutrire un bambino di un anno e mezzo, che manca di tutto ciò che il bambino necessita. Cadì era infastidita, risentita. Qui mi dicono che sta così perché non gli ho dato il suo cibo. Si vede che qui non capiscono. Sentire queste cose mi fa paura, mi viene voglia di andarmene, mi disse Cadì. E se ne andò, ore dopo, con il suo bambino morto sulla schiena, per dirlo in modo chiaro, mangiare la palla di miglio tutti i giorni, significa vivere a pane e acqua, patire la fame. Fame è una parola strana. Dal famen latino, gli italiani hanno detto fame, i portoghesi fome, i francesi femme, gli spagnoli hambre, con quella brr, introdotta anche in ombre, uomo, hembra, femmina, nombre, nome, parole molto pesanti. Non esiste parola, forse, più carica di fame. Eppure è facile disfarsi del suo carico. Fame è una parola deplorevole. Poeti di bassa lega, politici da strapazzo e pennivendoli di ogni tipo, l'hanno usata così tanto e così a cuor leggero, che dovrebbe essere proibita. Anziché proibita è neutralizzata. La fame nel mondo, come in Che cosa pretendi? Disconfiggere la fame nel mondo, è una frase fatta, un luogo comune, un'espressione quasi sarcastica, usata per sintetizzare quanto siano risibili alcune intenzioni. Il problema, con simili concetti vecchi e usurati, smussati dall'uso qualunquista, è che ogni giorno, all'improvviso, qualcosa ti riporta a vederli come se fossero nuovi, e a quel punto esplodono. Fame è un sostantivo femminile che significa, secondo quelli che stabiliscono il significato delle parole, tre cose. Voglia e bisogno di mangiare, penuria di alimenti basilari, che causa carestia e miseria generalizzata, appetito e desiderio ardente di qualcosa, uno stato fisico individuale, una realtà condivisa da molti, una sensazione intima. È difficile pensare a tre sensi più diversi, e fame naturalmente significa molto più di questo. Ma fame è una parola che tecnici e burocrati addetti ai lavori di solito evitano. È probabile che la considerino troppo brutale, troppo rozza, troppo d'impatto, o supponiamo per gentilezza che non la considerino abbastanza precisa. I termini tecnici di solito hanno un vantaggio. Non producono effetti emotivi. Esistono parole che ne producono. Ne esistono molte altre che non lo fanno. Di solito loro, gli organismi per i quali lavorano, preferiscono quelle che non lo fanno. Allora parlano di sottoalimentazione, di denutrizione, di malnutrizione, né di insicurezza alimentare. E i termini finiscono per confondersi e per confondere chi li legge. Voglio chiarire prima di tutto che cosa dico quando dico fame, o perlomeno che cosa cerco di dire. Mangiamo sole. Sole. Alcuni molto più di altri. Mangiare significa prendere il sole. Mangiare, ingerire cibi, significa fare il pieno di energia solare. I fotoni, con cariche diverse, cadono in modo incessante sulla superficie del pianeta. Grazie al processo stupefacente che chiamiamo fotosintesi, le piante li catturano e li trasformano in materia digeribile. Il 10% della superficie terrestre, circa 15 milioni di chilometri quadrati, un quarto di ettaro per ciascun essere umano, è dedicato a questo, a far crescere piante che producono clorofilla, capace di trasformare l'energia elettromagnetica del sole in energia chimica che innesca le reazioni in modo di trasformare l'anidride carbonica dell'atmosfera e l'acqua delle piante nell'ossigeno che respiriamo e negli idrati di carbonio che mangiamo. Tutto ciò che mangiamo, in ultima istanza, in modo diretto o indiretto, attraverso la carne degli animali che mangiamo, si riduce a quelle fibre vegetali caricate dal sole. Questa energia è ciò di cui abbiamo bisogno per recuperare e ricostituire le nostre forze. Questa energia entra nel corpo sotto forma di elementi diversi, grassi, proteine, carboidrati, liquidi e solidi. Per sapere quanta energia assume ogni corpo esiste una misura, la caloria. La fisica definisce la caloria come la quantità di energia necessaria per aumentare di un grado centigrado la temperatura di un grammo d'acqua. Per funzionare il corpo necessita di grandi quantità di energia, per questo, per misurarne il consumo, si usano unità di mille calorie, le chilocalorie. Il fabbisogno calorico di ogni persona varia in base all'età e alle condizioni nelle quali vive. Ma grosso modo si calcola che un bambino sotto l'anno abbia bisogno di mangiare circa 700 calorie al giorno, mille fino ai due anni, 1600 intorno ai 5. A un adulto ne occorrono da 2000 a 2700 secondo il fisico, il clima in cui vive, il lavoro che fa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un adulto che non mangia un minimo di 2200 calorie al giorno non riesce a recuperare il suo dispendio di energia, a nutrirsi. È una media, una convenzione, ma è utile capire il quadro generale. Un adulto che non riesce a ingerire 2200 calorie di cibo al giorno patisce la fame. Un bambino che non ne introduce 700 o 1000 secondo l'età patisce la fame. La fame è un processo, una lotta del corpo contro il corpo. Quando una persona non riesce a mangiare le sue 2200 calorie al giorno patisce la fame, mangia se stessa. Un corpo affamato è un corpo che sta mangiando se stesso e non trova più molto. Quando un corpo mangia meno di quanto gli occorre comincia a mangiare le proprie riserve di zuccheri, poi quelle di grassi. Si muove sempre meno, diventa letargico, perde peso e difese. Il suo sistema immunitario si indebolisce sempre di più. Viene attaccato da virus che gli provocano diarrea e lo svuotano. Parassiti, che il corpo non è più capace di contrastare, si insediano nella sua bocca. Fanno molto male. Infezioni bronchiali complicano la sua respirazione e fanno molto male. Alla fine comincia a perdere la scarsa massa muscolare che ha. Non è più in grado di alzarsi in piedi e tutto a un tratto. Non potrà più muoversi. Fa male. Si rannicchia, si raggrintisce. La pelle si piega e si spacca. Fa male. Piange piano, in silenzio. Aspetta che finisca. Poca gente, troppa gente, muore direttamente di fame. Moltissima gente muore di malattie o infezioni che sono mortali, perché il corpo, debilitato dal poco cibo, non è in grado di combatterle. Malattie o infezioni che per una persona nutrita in modo normale non hanno alcun rilievo. Poca gente, troppa gente, muore direttamente di fame. La metà dei bambini che muoiono prima dei cinque anni in un paese come il Niger muoiono per cause che si ricollegano alla fame. La parola che nessuno vuole usare. O, se mai, usarla come si dice cantilena, verdastro, desueto. Ieri, stamattina, il figlioletto di Cadì. Sono morti che non finiscono sui giornali. Non sarebbe possibile. Farebbero collassare i giornali. Sui giornali finiscono i fatti inconsueti. Straordinari. No, non sono andata a scuola. Siccome era una femmina, ero senza padre. Quando era piccola, A.I. si domandava a cosa servivano i padri. Com'era averne uno? Com'erano le vite dei bambini con i padri? A cosa servivano quei padri? A.I. non vedeva grandi differenze. Lei e i suoi cugini vivevano tutti insieme nel cortile dei nonni e gli altri avevano un padre e lei, che non ce l'aveva, viveva come loro. Dopo, molto dopo, le raccontarono che suo padre era morto quando lei era appena nata, a distanza di due o tre giorni, che era morto così, di niente, della sua morte e che se lei avesse avuto un padre, forse sarebbe andata a scuola. Allora aveva pensato che non avere il padre fosse un vantaggio. Io non volevo andare a scuola, diceva, e in ogni caso le sue cugine, che avevano il padre, non ci andavano neppure loro. Ma forse, pensa adesso, se avesse avuto un padre, non l'avrebbero fatta sposare così piccola. O forse sì. Quando le dissero che si sarebbe sposata, era una bimbetta che scappava per andare a giocare con le amiche. Nelle notti di luna piena si incontrava con le altre bambine del villaggio per cantare e ballare canzoni antiche, magari con un tamburo e il battito delle mani. Gli altri giorni modellavano bamboline e pentoline e piatti e una vacca e cammelli e case con l'argilla e giocavano alle mamme. Cominciavano a essere quello che sarebbero state. Per il resto del tempo giocavano alle mamme senza giocare, senza giocattoli. Pulivano, andavano a prendere l'acqua, badavano ai fratelli, cucinavano. Come immaginavi la tua vita da grande? Niente, non immaginavo niente. Volevo sposarmi. L'unica cosa che immaginavo era di sposarmi. Che altro può fare una bambina? Ma non così presto. Quando compì dieci anni, la sua famiglia la fece sposare con un cugino primo. Lo zio pagò i 50.000 franchi, 100 dollari della dote, i 100.000 per i vestiti e il corredo e tutti insieme organizzarono una festa. Ai si divertì, ma quando arrivò il momento di andare a casa del cugino marito, era spaventata a morte. Lui era un uomo, un adulto. Il Niger è uno dei paesi che conta più matrimoni infantili al mondo. Anche se è illegale, una ragazzina su due si sposa prima di compiere 15 anni. Il matrimonio di una figlia è, tra le altre cose, una fonte di introiti per le famiglie. Quanto più grande è il bisogno, quanto più grande è la fame, maggiore è la tentazione di far sposare la bambina per incassare la dote e mangiare qualche giorno in più e togliersi una bocca di torno. Lo guardavo e avevo una paura terribile e lui non si limitava a guardarmi. Ai tentò di scappare molte volte. All'inizio tornava a casa della madre e della nonna, ma loro la restituivano e ogni volta lo zio e il suocero, il marito e cugino la picchiavano perché imparasse. Ai cominciò a scappare in campagna o in luoghi appartati. La trovavano sempre. L'ultima volta lo zio e il suocero le disse con molta calma che se fosse scappata di nuovo le avrebbe tagliato la gola con le sue mani e Ai gli credette. A volte, quando lo zio dormiva, Ai passava il dito sul filo del suo macete con il manico di legno. Due anni più tardi ebbe la prima figlia, poi sarebbero arrivati tre maschi. E continui a vivere con tuo marito? Sì, vivo con lui, certo. Andate d'accordo? Non ci sono problemi. Dice, per liquidare l'argomento, Ai dice di avere venticinque anni ma sembrano di meno. Ha un fular celeste e verde a pallini bianchi avvolto attorno alla testa, gli occhi grandi le labbra spesse, la cicatrice tribale a forma di fiore sulla guancia sinistra, cerchi alle orecchie e al naso, una collana di perline colorate. Il suo volto è una costruzione molto complicata, carica di sfumature. È un gran lavoratore, lavora molto. Ed è cambiato, adesso non mi picchia. La sua vita in compenso è sempre uguale. Ogni mattina Ai si alza intorno alle sei, si lava, prega e comincia a macinare il miglio per fare la palla. Per sgranare e pestare i chicchi nel mortaio di legno ci vogliono un'ora e mezzo, due ore di colpi. Poi deve andare a prendere l'acqua al pozzo, a circa 300 metri da casa sua, un secchio da 10 litri sopra la testa e tentare di farselo bastare per non dover tornare, anche se ultimamente può farlo la sua bambina. Non va a scuola? No, non possiamo permetterselo e dire che lei il padre ce l'ha. Dice e non sono sicuro che lo dica con ironia. Il fuoco è un altro problema. Lei o uno dei bambini devono andare a cercare qualche ramo per far bollire l'acqua nella quale impasterà la farina di miglio e un goccino se ne ha di latte per fare la palla. Intorno alle 11 quando il caldo è già insopportabile, Ai la porta con una giara d'acqua a Mamouda, il marito, nel campo in cui sta lavorando. Hanno tre piccoli appezzamenti, meno di un quarto d'ettaro l'uno e Mamouda li lavora da solo perché il bambino più grande non ha ancora compiuto sette anni. Anche se questa volta, dice Ai, i due bambini più grandi sono andati ad aiutarlo con la semina. Ma soltanto con la semina, dice, non sono ancora in grado di fare altro, poveretti. Circa la metà dei bambini nigerini sotto i cinque anni è cresciuta meno del dovuto per mancanza di cibo. Se superano l'infanzia, quei bambini avranno più malattie, meno possibilità di lavorare e di godersi la vita e, in sintesi, una vita più breve e più povera, che se avessero mangiato bene nei primi anni. Sembra una stupidaggine. La casa di Ai è un quadrato di terra di 15 metri per 15, racchiuso da un muro fatto di fango e paglia alto meno di due metri. Scabolo irregolare. Dentro il recinto, due cubi di fango e paglia di tre metri per tre sono le stanze. Una costruzione circolare, fango e paglia con il tetto di paglia a punta. È il granaio. Ma la vita trascorre all'aria aperta. Nel cortile è un po' sporco dove una capra allatta il suo capretto, dove la figlia di Ai macina i semi in un mortaio alto tanto quanto lei, dove i bambini di Ai non la smettono di correre e dove lei e io chiacchieriamo seduti a terra sulla sua stuoia. Sgranare la spiga, mondare i semi, pestarli nel mortaio, sono lavori che gli abitanti dei paesi ricchi come noi e gli abitatori ricchi degli altri paesi non fanno più. Li compriamo fatti. Siamo a Kumassa, uno dei tanti paesi intorno a Madagua. Il paese è fatto di 20 o 30 case come questa, le vie, il voto in mezzo. C'è uno di questi paesi ogni 2-3 chilometri, in mezzo alle terre che gli abitanti coltivano. Poi, ogni 10 o 20 chilometri, un paese più grande con il centro amministrativo e il mercato. È la struttura classica, il tessuto del mondo agrario di quando il trasporto era basato tutto sul camminare. Quando vedo questi paesi, fatico a immaginare che mille anni fa potessero essere diversi. Le vie sono gli spazi che rimangono tra case, dove volteggiano bambini, capri, galline, piume e ossa. Un bambino passa facendo rotolare un vecchio copertone. Altri due usano i loro bastoni come spade. Diversi corrono senza un senso apparente. Qualcuno un giorno decifrerà il senso della direzione delle corse dei bambini di un paese qualunque, in una nazione qualunque, e capirà il mondo. Nel frattempo continuiamo a ignorarlo. La moschea, in mezzo al paese, è una stanza di tre metri per tre, con la sua piccola torre dipinta di verde o di azzurro, ormai molto tempo fa. Le donne pestano grano nei loro mortai di legno. Altri passano con i bambini legati alla schiena. Una ragazzina di dodici anni porta un figlio sulla schiena. Altri si incontrano intorno al pozzo, con un mucchio di bidoni colorati a lavare o a chiacchierare, o soltanto a prendere l'acqua. E gli uomini si siedono a parlare vicino alla strada, su un tronco, consumato, levigato dallo sfregamento delle loro natiche e delle natiche dei loro antenati e di secoli di natiche. E accanto c'è la bottega, un'altra capanna di fango e paglia, ma con tre pareti anziché quattro, dove uno di loro vende uova, tè, contenitori di latta o bidoni usati, sigarette. Un uomo giovane passa su un carro carico di legna, trainato da un asino e la donna sopra la legna. L'uomo sull'asino e il carro. Questo sì, ha le ruote di gomma. Un pastore Peul, con il suo cappello di paglia rotondo a punta e il suo bastone lunghissimo, arriva conducendo le sue capre e qualche vacca magrissima, con le corna lunghe e sottili. Un pick-up avanza lentamente con quindici o venti persone ammucchiate sul cassone. Le gambe che pentolano, i corpi a stretto contatto, alcuni seduti sulle tavole che sporgono per farci stare più corpi. Quando Mahmouda finisce di mangiare, in campagna, all'ombra dell'albero, Ahi torna a casa sua, la pulisce, si occupa dei bambini. Se va tutto bene, all'una o alle due può andare a dormire un po'. Il caldo, in ogni caso, non le permette di fare altro. Fino al pomeriggio, quando si metterà a cucinare l'impasto di miglio, una specie di polenta, che nei giorni buoni si mescola con un sugo di cipolla soffritta, magari un po' di pomodoro e qualche fogliolina di gombo o di baobab. Allora ci sediamo a mangiare, prima che il sole tramonti, qui nel cortile. Per me fa lo stesso, ma mio marito dice che non gli piace mangiare quando tutto è buio, che gli piace vedere. Ma quest'anno, molte sere, non c'era niente per preparare la cena. «È capitato», raccontai, «perché Mahmuda voleva migliorare la sua condizione. Aveva venduto parte del miglio raccolto in ottobre per poter seminare cipolle a dicembre e i concime e i semi che bisognava comprare erano cari, ma poi il raccolto era andato bene, si erano illusi. Ma quando andammo a vendere le cipolle ci pagarono pochissimo. Dicevano che ce ne erano troppe, che non le avrebbe comprate nessuno, che o le vendevamo a quel prezzo o le mangiavamo noi e alla fine non ci rimase quasi niente. E poi, quando venne il momento di comprare il miglio per mangiare, i prezzi erano sempre più alti. E allora? E allora ci siamo ritrovati un debito. Un debito? Mio marito ha chiesto un prestito a un suo amico. Erano 50.000 franchi e siccome non ne hanno ricavato neppure la metà, ai non sa come faranno a ripagarlo. Come farete? Non lo so. Speriamo che l'anno prossimo il raccolto sarà migliore. Ai è preoccupata. Dice che l'amico del marito è una brava persona, ma che se non riusciranno a pagarlo si terrà la loro terra o perlomeno parte della loro terra. E allora sì, che non avranno mai più cibo a sufficienza. E la cosa peggiore è che quest'anno mio marito non ha potuto coltivare. Quando è arrivato il momento ci eravamo mangiati tutto il grano e non ne avevamo più per seminare. Non avevamo neppure da mangiare. Quindi ora sta lavorando la terra di un ricco per avere qualcosa da mangiare. Non ha potuto seminare il nostro pezzettino di terra. E allora come mangerete l'anno prossimo? Beh, manca ancora un sacco di tempo. Nel 2012 le ONG e le agenzie che lavorano in Niger hanno assistito circa 400.000 bambini, ma l'ipotesi è che ad avere bisogno fossero più di un milione. Sebbene non ne siano certi, le agenzie e le ONG coprono solo parte del territorio. Del resto nessuno sa niente, con certezza. Non esiste una rete sanitaria efficiente. Non esistono dati. Un buon numero. Che numero? Di bambini? Nasce senza essere registrato e muore e viene sepolto. E non è mai esistito. Suo figlio più piccolo, Ismail, ha un anno e due mesi ed è stato ricoverato per 15 giorni all'ospedale. Quando è arrivato pesava meno di 4 chili, gravemente denutrito. Adesso sta meglio, ma, ahi, ha paura che gli accada di nuovo. Adesso devo andare ogni mattina a farlo controllare e a prendere la mia busta di cibo. Lo faccio, ma non posso mica farlo sempre. Non voglio andare per sempre a prendere la busta di cibo. Se il bambino deve mangiare, voglio che mangi bene, a casa. Ismail ha un cappellino di lana blu e bianco, visto che ci sono solo 35 gradi, e succhia un secchetto di integratore alimentare come se gli piacesse. Perché c'è gente che ha e gente che non ha? Beh, alcuni hanno i genitori che li aiutano e altri no. No, intendevo gente molto ricca che ha le case, automobili e altri che non hanno nulla. Perché è così? Non lo so. Ai ride, a disagio. Guarda Bea, la mia interprete locale, per chiederle aiuto. Bea non dice niente. Non lo so, come faccio a saperlo? Dice Ai, poi ci ripensa. Qui, in paese, la differenza la fanno le terre. Quelli che hanno le terre più grandi possono fare tutto quello che vogliono. Dice, e io ricordo un'altra nigerina che, anni fa, in un paese come questo mi spiegava la differenza sostanziale tra un ricco e un povero. È semplice. I poveri lavorano con le mani. I ricchi lavorano con i soldi, mi disse. In che senso lavorano con i soldi? Invece di lavorare con le loro mani, pagano altri perché facciano il lavoro al posto loro, perché coltivino il loro campo. Quella volta ero andato lì per scrivere una storia sulle banche dei cereali che proliferano nella regione. Sembrava una grande idea. Un ONG incoraggiava le donne del paesino, di centinaia di paesini, a organizzarsi per costruire un granaio. Quando lo facevano, dava loro alcune tonnellate di miglio per costruire il capitale iniziale della banca, che aveva come funzione quella di prestare il miglio alle socie durante le saudur e aiutarle a sopravvivere. Le socie avrebbero dovuto restituire il prestito in semi, con un leggero interesse, quando i mariti avrebbero avuto il raccolto. L'iniziativa aveva due vantaggi evidenti. Quello più ovvio era che aiutava migliaia di famiglie a sopravvivere nel periodo più duro. Quello meno ovvio chiedava alle donne un potere mai avuto nelle loro comunità. Ma adesso Aimi dice che nel suo paese e in altri paesi le banche hanno avuto problemi perché troppe donne non restituivano i prestiti. Non volevano, non potevano restituire i prestiti e cominciarono a rimanere senza il capitale di cereali. Allora la maggior parte delle banche smise di fare prestiti e cominciò a vendere. Anche così erano utili. Tenevano i prezzi al di sotto del mercato del 30 o 40 per cento e così facendo costringevano i commercianti a contenere i loro. Ma, mi dicono, anche questa cosa è andata male in molti casi. I commercianti, attraverso prestanome locali e piccole reti di corruzione, compravano lo stock di grano per rivenderlo quando fosse stato conveniente e per arrivare in quel modo a controllare i prezzi del mercato. La crisi economica dei paesi donatori contribuì alla rovina. Tutto a un tratto il reintegro di grano sulle banche rimaste sprovviste si ridusse molto. Finirono i salvataggi. Così molte banche dovettero chiudere. Quella del suo paese, mi dice I, qualche mese fa. Il gruppo di donne del suo paese, mi dice I, continua a incontrarsi ma adesso senza la banca non ha più il rispetto degli uomini. Hai paura di non avere abbastanza cibo o non ci pensi? Sì, certo che ci penso. Quando la sera non ho niente da dare ai miei figli, ci penso molto. Cosa pensi? Non lo so, niente. Penso. I pensa, pensa molto. I non ha mai avuto abbastanza cibo. Non è mai stata in una città. Non ha mai avuto la luce elettrica, né l'acqua corrente, né un fornello a gas, né un water. Non ha mai partorito in un ospedale. Non ha mai visto un programma televisivo. Non si è mai messa i pantaloni. Non ha mai avuto un orologio. Mai un letto. Non ha mai letto un libro. Non ha mai letto un giornale. Non ha mai pagato una rata. Non ha mai bevuto una coca cola. Non ha mai mangiato una pizza. Non ha mai scelto un futuro. Non ha mai pensato che la sua vita potesse essere diversa da come è. Non ha mai pensato di poter vivere senza domandarsi se avrebbe mangiato il giorno dopo.